Ben arrivato! È stata una trattativa dell'ultimo giorno, mi hanno dato questa possibilità e l'ho accettata subito e le sensazioni sono molto positive. Voglio ringraziare la società e il presidente, sono contento e pronto per lavorare. Ormai sono 11 anni che sono in Italia e sono un portiere sicuramente fisico, che mi piace anche uscire. Vado a lavorare con il preparatore Turci, ho avuto modo di parlare con lui, le sensazioni sono molto buone. Anche altri compagni mi hanno accolto bene e non vedo l'ora di cominciare a allenarmi. In Slovenia si parlava molto di quella Sampdoria quando ha vinto lo Scudetto. Ho avuto modo di conoscere Sresko Katanes perché è stato il mio CT pochi mesi fa. Primo giocatore sloveno che ha vestito la maglia della Sampdoria, poi secondo era Krains, che lo conosco bene, e allora io sono terzo. Posso assicurare a tutti i tifosi che metto giorno per giorno il mio massimo e ci tolleriamo grande soddisfazione. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!